Ciao Maria Grazia, sono molto contenta di averti qui e a raccontare la tua esperienza con il mio percorso felice nel tuo corpo. Che cosa ti ha motivato a iniziare un percorso con me? Ma sei arrivata nel momento giusto perché ero proprio nella fase ultra down. Sentivo che c'era qualcosa da cambiare ma probabilmente da sola non ci riuscivo e sentivo la pesantezza in ogni cosa. Quindi legata sia al peso e sia tutto quello che è attorno poi al peso. Quindi sentivo che l'energia era negativa, che c'era ma che era molto negativa. Quindi volevo dargli il cambio di rotta e canalizzarla insomma in maniera differente. E che cosa ti ha conosciuto? Che ero terribile. Sì, non eri molto allegra. No, dico proprio infatti io mi ricordo il momento che era proprio bruttissimo. Mi sentivo super obesa, ma obesa in tutto, cioè non solo proprio fisicamente. Sentivo proprio una pesantezza forte. Sì, c'era anche un pochino di sfiducia se ricordo bene. Eri un po' tanto sfiduciata. Ci è voluto un pochino perché ti aprissi all'idea che un cambiamento fosse possibile. Se vogliamo. E senti, in tutto ciò che cosa ti ha, diciamo, motivato a scegliere proprio me? Che cosa ti ha, diciamo, ti ha risuonato se vogliamo? Ma un po' avevo visto i tuoi post. Avevo letto un po' di te e qualche amica in comune, che quindi direttamente non ti conoscevo, ma tramite amica in comune, diciamo, avevo preso questa fiducia affidandomi della mia amica. E quindi mi sono affidata un po' proprio per questo. Però rileggendo i post, sia da quando poi ci siamo conosciute. Cioè io ogni volta che tu pubblichi qualcosa la rileggo e ci penso. Non è che ti metto il like giusto per, ma li leggevo anche prima con, vedendo anche le varie interviste, le testimonianze delle altre persone. Quindi ti seguivo non così come posso dire ora, ma già eri nell'aria. Ero nell'aria. E senti, in questo percorso che abbiamo fatto insieme, che cosa hai scoperto di te che non sapevi? Ma in realtà la prima cosa proprio di più che mi ha preso, che dico sempre attraverso un file Excel, ma mi ha dato proprio la percezione e l'ascolto. Cosa che non facevo prima. Fisicamente direi, prima mangiavo a più non posso, senza ascoltare che effettivamente non era fame di cibo. Quindi quell'esercizio mi ha illuminato, cioè io se devo associare un esercizio al nostro percorso, associerei proprio quello che è stato proprio totalmente illuminante. E se dovessi spiegarlo a una persona così, mi dice, ah questo è, perché in effetti era molto semplice. Però, avendo fatto anche tante diete, tante cose, è proprio l'approccio diverso che mi faceva sentire di più, non il mio corpo, perché la, io che il mio corpo era enorme, lo vedevo comunque, però la percezione di quello che mangiavo che era al di là di quello di cui necessitavo. Quindi ho capito che l'obesità era fuori dal, dal corpo in realtà. Beh, una grande scoperta, devo dire, una grande consapevolezza. Molto, perché poi è stato talmente illuminante questo esercizio che mi ha portato proprio ad aprire nuovi orizzonti su tanti fronti. Quindi al di là di intraprendere un nuovo percorso con un nutrizionista che eravamo magari più in affinità rispetto a prima, ma anche dedicarmi a dei progetti a cui ho pensato in passato e avevo lasciato lì. Anche i limiti da dare rispetto alla mia vita personale e lavorativa. Io prima lavoravo tantissimo, H24, cioè il primo periodo Covid era proprio così. e dopo ho capito che nulla cambia, cioè toglievo solamente a me. Quindi questo mi portava anche ad essere molto più nervosa, più arrabbiata. E seppure saltavo il pasto del pranzo, la sera avrei mandato il bisonte, perché poi l'energia la devi prendere in qualche posto. e quindi mi ha aperto proprio nuovi progetti, ho deciso di intraprendere su queste cose. Quindi già nel periodo di Natale, quindi in realtà dopo pochi incontri, penso neanche sia stato un mese, perché poi c'era Natale, già prima c'eravamo sentite, avevo già iniziato a parlare con un nutrizionista, a iniziare anche di prendere la pillola per la parte insomma più legata al corpo, alla patologia per l'insulino resistenza, ad affidarmi anche a delle cose che seppure penso in maniera diversa, devo dare il tempo di capire se è così, perché se no, se rimane solo il mio pensiero, non ho neanche modo di verificarlo, anche con il medico insomma. Certo sì, quello è stato un cambiamento, uno sblocco molto importante, di aprirsi appunto alla possibilità di verificare come stessero realmente le cose, da quel punto di vista della salute che è molto importante. Sì, quindi in realtà se ci penso non è che abbia cambiato tante cose, perché anche rispetto all'esercizio io non è che mangiassi tantissimo prima, però rifugiavo comunque tutto nel peso e nel cibo. Una cosa che è stata importante in questo percorso, che non c'entra nulla con il cibo, se ti ricordi io ti parlavo di quattro anni fa, quando sono dimagrita tantissimo e il medico non ci credeva, che io vivevo proprio con un senso di nostalgia e di rabbia, perché dico ma perché ci sono riuscita quattro anni fa? Anche se il medico diceva beh, anche da un anno all'altro può cambiare il fisico, quattro anni sono tanti, quindi non è che devi essere per forza vent'anni fa, era diverso il fisico. Però questo percorso me l'ha fatto un po' rivedere, cioè anche ad accogliere il fatto che è stato così, ora è diverso e devo iniziare diversamente, perché io ero proprio ancorata. Per me ho una foto che mi ritrae quei quattro anni fa, che è sempre nel mio cervello, cioè non riesco a toglierla, ma è stato un periodo durato poi un anno grossomodo così, tutto il resto sono sempre foto in cui ero enorme fisicamente, però mi ha talmente sbilanciato, che volevo attaccarmi a tutti i costi a quella foto, a quell'immagine e non la lasciavo andare. Quindi ho fatto più, abbiamo fatto un lavoro più sul accogliere proprio quello che era, ma andare anche avanti, perché io ero aggrappata quei quattro anni fa, forse anche il primo incontro, non lo so quante volte te l'avrò ripetuto, chiunque me lo chiede, io parlo sempre di quei quattro anni fa, parlavo di più, perché ora non lo nomino, però prima molto di più. Sì, me lo ricordo molto bene, e questo fatto di essere ancorata ancora a quella situazione ideale di qualche anno fa era probabilmente una delle cose che ti bloccava dall'andare avanti, quindi lasciarla andare ti ha permesso di intraprendere. Sì, aprire nuovi orizzonti, cioè è stato così, ma non è che poi devo essere prigioniera anche di quei quattro anni fa. Sì, ti ha permesso proprio di rimetterti in cammino. Senti, e come pensi, come pensi di comportarti d'ora in poi? Eh, questa è la domanda più difficile, perché ci sono giorni in cui, devo dire la verità, io cerco di infondere positività sempre agli altri, e anche in questo percorso ho capito che essere un po' il pagliaccio per sminuire un po' le altre cose sminuisce anche quello che io ho fatto, tutti i traguardi. In 365 giorni all'anno ho pochi giorni in cui sono realmente molto negativa, quindi già è una grande fortuna. Però quando capiti in quei giorni non ce n'è per nessuno, quindi prendo le cose molto più leggere, perché abbiamo iniziato il percorso con la pesantezza e l'obiettivo era la leggerezza che è l'estremo. La leggerezza è una cosa difficilissima da mantenere, però se ti impegni al di là dei momenti un po' più complicati si riesce a gestire, ti fa stare meglio. I momenti complicati comunque arrivano e qualche momento complicato ce lo possiamo anche concedere. Ah sì. succederà che avremo dei giorni che non stiamo proprio super leggerissimi e super positivissimi. Che bel lavoro che hai fatto, Maria Grazia. Eh. come sono orgogliosa, ti giuro, guarda, come sono contenta, ma contenta, ma contenta. Beh sì, ci sono tante cose, al di là del file Excel che proprio ha cambiato la vita, anche la camminata, cioè tante altre cose che abbiamo fatto. Però se devo collegare lo switch là che ti ha dato proprio di quel file Excel, io ogni tanto lo vado anche a rivedere rispetto alle cose sia quelle in bianco e sia quello scritto. Sì sì, ma anche quando mangio, effettivamente, io ce l'ho sempre presente. Quindi se c'è una cosa che magari tu vedi, divoreresti, però effettivamente non ce l'hai la fame. Quindi io ci penso sempre a questo file Excel. Ha fatto un effetto pazzesco quella roba. Sì sì, infatti ho cercato di spiegarlo ad una mia amica. Bene, io sono molto contenta, sono veramente molto contenta. Sì sì sì, sono contenta di appunto della tua, sono contenta di questa tua testimonianza, tantissimo. Ti vedo proprio diversa. Ma io mi sento, infatti se ti devo dire, proprio la cosa diversa, già da Natale sentivo questa ricarica diversa. Pure se ripeto, non è che ho fatto cambi fisicamente, sono sempre seduta qua, non sono andata in vacanza, cioè, però ho fatto quelle poche cose che sono state quella conquista che mi hanno dato anche questo stare meglio. Sì, ma ti vedo, ti vedo e ti sento. Grazie Maria, grazie per questa bellissima testimonianza. E noi tanto rimaniamo in contatto. Ok? Ciao! 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 Grazie.